A kiss for you. Dolunay, la bellissima rivelazione di Serkan Kaioglu su Ozzegurel Nam Fungadeli I due attori tour di Serkan Kaioglu e Ozzegurel, mercoledì 27 dicembre 2017, hanno partecipato alla festa finale della serie televisiva Dolunay. . Eccoci tornati con un nuovissimo appuntamento dedicato a due attori turchi che hanno conquistato il cuore di tantissimi telespettatori italiani, stiamo parlando di Serkan Kaioglu e Ozzegurel, video, cioè dei protagonisti principali della popolare telenovela turca intitolata Cancelletto Cerri Season, la stagione del cuore. . . Purtroppo questo sceneggiato su Canale 5 ha chiuso i battenti a settembre 2017, ma fortunatamente molti utenti su Instagram continuano a seguire tutti gli attori di questa soap, soprattutto gli interpreti di Aya Tseoiku. . 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